Gaetano Auteri, benvenuto a Pescara. Intanto, cosa l'ha convinta ad accettare la proposta del presidente Sebastiani? Ma cosa mi ha convinto? Intanto questa è una società che a parte il decente passato ha sempre operato bene. Poi, la piazza di che parliamo? Cioè, basta soltanto dire che ieri sera, in una semifinale del campionato europeo, ma questo già io lo sapevo da due anni, sono dei giocatori che hanno vestito la maglia del Pescara, quindi questo significa quanto brava è stata la società ad agire. Poi la piazza la conosciamo, è affascinante, ha sempre visto bel calcio e poi la voglia di rimetterti sempre in discussione, la voglia di dare una mano attraverso quello che so fare. Proveremo a far ricreare, a far ritornare il giusto entusiasmo in una piazza che ha voglia di accendersi, quello io lo so, perché poi dopo una delusione, io dico che dopo le salite ci sono sempre le discese. Lei parlava della nazionale, insigne, verratti immobile, sono il simbolo anche del calcio offensivo che si è proposto spesso a Pescara. Lei ha un po' questa fama di allenatore offensivo, che vuole proporre bel calcio, col suo modulo di riferimento 3-4-3, saranno questi alcuni degli aspetti basilari della stagione. Noi cercheremo di imporre il nostro gioco, poi 3-4-3, ripeto, lo dico tante volte, sono soltanto numeri, avremo una identità forte, un'identità che avrà voglia di prendere il predominio sulla gara e sull'avversario, di creare e non concedere, di creare e possibilmente di realizzare e di concedere poco. Avremo questo tipo di atteggiamento, lo faremo sempre, non speculeremo sui risultati, avremo un atteggiamento giusto, un atteggiamento che ci possa consentire, almeno ipoteticamente, di vincere le partite, non attraverso le perdite di tempo, le speculazioni, insomma, attraverso il confronto con gli avversari. Senta, l'obiettivo è la vittoria del campionato, le ha chiesto questo il Presidente? Difficilmente si parla così, ma noi non ci dobbiamo nascondere cosa possiamo dire alla gente, la gente si aspetta che diciamo quello, vinciamo il campionato, ma ciò che pensa la gente sfonda una porta aperta in noi, in me personalmente, perché non mi piace soccombere, non mi piace subire, e quindi anche se non fossimo a pescare, fossimo in una realtà inferiore come prestigio calcistico o se non avessimo una squadra in grado di competere per i primissimi posti, nella mia interiorità io giocarei sempre per superare l'avversario di turno e questo è l'atteggiamento che ci deve spingere. L'ultima, non le faccio domande di mercato, però un aspetto che è legato a ciò, il vecchio gruppo, molti giocatori ancora sotto contratto, si pensava potessero uscire tutti, probabilmente non sarà così, alcuni di questi calciatori possono far parte del suo progetto tecnico, ho sentito parlare di Busellato, Memusha, Idrudi ad esempio. Scusate, faranno parte del progetto tecnico tutti quelli che dimostreranno di avere, vabbè, oltre che qualità tecniche, ma ce ne sono tanti in questo gruppo anche di giocatori sotto contratto, tutti quelli che dimostreranno di avere senso di appartenenza, di rispetto per la maglia, che faranno i fatti invece che mistificare i fatti attraverso le parole, tutti quelli che onoreranno e rispetteranno la maglia e che avranno voglia di rimettersi in discussione, che avranno voglia anche di superare delle amarezze che appartengono a tutti quelli che li hanno vissuti, insomma è una sfida, chi non avrà questi criteri, contratto o non contratto, si auto escluderà, io in partenza non escludo nessuno perché ho grande rispetto sia dei calciatori che degli uomini, quando dimostrano di essere bravi calciatori e ottime persone, quando manca uno di queste componenti è chiaro che si fanno altre scelte.